8 nomi per la nuova giunta Peracchini, vice sindaco Manuela Gagliardi, la più giovane Giulia Giorgi di 22 anni. 9 rifiuti speciali in un cantiere abusivo a follo, denunciato il titolare di una ditta dai carabinieri forestali. Migranti, ad Amelia un consiglio comunale straordinario con un ordine del giorno di protesta contro il governo. Weekend di eventi, domani alle ricila notturna di Sant'Erasmo, al Canaletto sono tornati gli scivoli acquatici. Allo stadio con i prezzi dello scorso anno, presentata la nuova campagna Abbonamenti dello Spezia Calcio. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del TLS giornale. Come avete sentito dai titoli, apriamo con la politica. 8 nomi della nuova giunta sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Seguiamo il momento dell'annuncio con le immagini di Raffaele Maulella. Vice sindaco Manuela Gagliardi, con deleghe, organizzazione dell'ente, partecipate, patrimonio, avvocatura civica e affari legali, contratti e appalti, personale, rapporti con il consiglio comunale. Assessore Paolo Asti, cultura, turismo, toponomastica, gemellaggi, cooperazione internazionale, comunicazione, promozione della città. E' il più vecchio della nostra giunta. Poi, Assessore Lorenzo Broggi, commercio, attività produttive, decentramento, cura e decoro della città, sport e impianti sportivi, illuminazione pubblica. Assessore Cristopher Casati, ambiente e sostenibilità, ciclo dei rifiuti, trasporto pubblico locale, mobilità, energia, palio del golfo. Assessore Genziana Giacomelli, lavoro, sviluppo economico, formazione professionale, politiche comunitarie, università e ricerca. La più giovane, Giulia Giorgi, politiche giovanili, istruzione, città dei bambini, pari opportunità, diritti degli animali, servizi informatici. Assessore Gianmarco Medusei, sanità, politiche sociali, politiche abitative, servizi educativi, servizi cimiteriali, polizia municipale, sicurezza, servizi demografici. Luca Piaggi, infrastrutture, protezione civile, lavori pubblici, manutenzione, difesa del suolo, progetti speciali. Reservo a me stesso nelle indicazioni che vi ho detto prima, bilancio, pianificazione territoriale, delizia territoriale, partecipazione, trasparenza e segretaria generale. Il nono assessore lo nominerò nel prossimo 24 o 36 ore e sarà una donna in quota Fratelli d'Italia. Scopriamo nel dettaglio chi sono gli otto membri della giunta Peracchini nel servizio di Laura Ivani con le immagini di Raffaele Maulella. Otto nomi su nove presentati per la giunta Peracchini che si tinge di rosa con la prima vice sindaco donna. Manuela Gagliardi, eletta con la lista Toti, oltre a diventare il braccio destro del nuovo sindaco, avrà le deleghe a partecipate, patrimonio, contratti e appalti. Una grande soddisfazione, sicuramente metterò tutto il mio impegno sia per naturalmente valorizzare la figura femminile e comunque per valorizzare il ruolo che mi è stato assegnato. Lei ha la sua prima esperienza amministrativa, ha un modello che seguirà? Prima esperienza amministrativa, il modello lo costruiremo insieme, siamo una squadra giovane, preparata e con un grande capitano. Spicca la presenza di tre assessori pescati dalla lista della Lega Nord. Lorenzo Broggi, consigliere comunale sino al 2012, si occuperà di commercio, attività produttive, decentramento, sport. A Gianmarco Medusei, ufficiale medico della Marina Militare, candidato alle elezioni regionali del 2010 con l'Udc e poi passato al Carroccio, le deleghe a Sanità, Polizia Municipale e Sicurezza. Ha solo 22 anni, Giulia Giorgi, che avrà a che fare con politiche giovanili, istruzione, città dei bambini, pari opportunità. Prima esperienza amministrativa per te, come la vivi? La vivo bene, sono contenta soprattutto del fatto che finalmente i giovani spezzini avranno un referente comunque in giunta comunale all'interno di questo palazzo che sinceramente per troppo tempo siamo stati abbandonati da tutto. Quindi io questo vorrei diventare un punto di riferimento proprio per le politiche giovanili, per i ragazzi. Dopo la Gagliardi, un altro nome in giunta della lista Toti è quello di Luca Piaggi, geologo, a cui vanno infrastrutture, protezione civile e lavori pubblici. In giunta anche Cristopher Casati, ex vicesindaco di Foglio di Liguria Popolare, che si occuperà di ambiente, ciclo dei rifiuti, trasporto pubblico, palio del golfo. Paolo Asti, giornalista e con esperienze sia come consigliere comunale sia provinciale, un incarico tecnico per occuparsi di cultura, turismo, comunicazione e promozione. Esterno anche l'assessore Genziana Giacomelli, direttore della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, a cui vanno lavoro, sviluppo economico, università e ricerca. Peracchini tiene per sé al momento bilancio, pianificazione territoriale edilizia, partecipazione. Manca il nono nome che, entro le prossime ore, sarà scelto in seno a Fratelli d'Italia e di certo sarà una donna. Il sindaco Peracchini ha spiegato con quali criteri ha scelto la sua squadra. Per il presidente del Consiglio Comunale ha detto si va verso la condivisione di un nome con le minoranze. Lo sentiamo al microfono di Laura Ivani e le immagini sono di Raffaele Maulelle. Presentata questa mattina la nuova giunta comunale, manca ancora un nome, però intanto ci sono otto nomi di otto nuovi assessori. Perché sono stati scelti? Quali sono le deleghe di maggior peso? Sì, semplicemente sono partito dalla legge che prevede dei criteri sia in termini numerici, massimo nove per la nostra città, sia in termini di genere e che quindi al massimo prevederà cinque uomini e quattro donne. Quindi la nona persona che farà l'assessore lo sceglierò entro 48 ore da una terna che mi è stata data dai Fratelli d'Italia. Gli altri criteri che ho utilizzato chiaramente sono le competenze professionali in base all'attività che noi dobbiamo svolgere nei prossimi anni e anche l'appartenenza politica perché al primo turno c'è stato un risultato che quindi è giusto rispettare. C'è una caratteristica, c'è una vice sindaco donna e poi ha tenuto per lei una delega importante come quella del bilancio. Come mai? Sì, innanzitutto per la prima volta la Spezia è un vice sindaco donna ed è un segnale a cui io tenevo particolarmente per dare veramente un tocco particolare a un'amministrazione nuova e che quindi doveva assolutamente cambiare anche questa tradizione. Per quanto riguarda il bilancio ho tenuto questa delega in questa fase proprio per verificare i primi conti con la revisione dei conti e poi valutare se darlo oppure no. Si dovrà parlare anche del futuro Presidente del Consiglio Comunale e di altre, insomma di imbastire il lavoro. Come vi muoverete? Beh, innanzitutto cercherò una condivisione con l'opposizione per far sì che il gruppo istituzionale, il Presidente del Consiglio, i due vice presidenti del Consiglio che devono essere eletti nella prima seduta del 14 luglio possibilmente vorrei condividerli per dare un segnale di unità comunque alla città. Ognuno col proprio ruolo chiaramente, però sarebbe un bel segnale dal punto di vista istituzionale. Quindi nelle prossime ore vedremo di fare questa verifica e poi decideremo. Si è parlato di partecipate nelle prime ore della sua elezione, a che punto siamo? Ci sono delle novità? Sì, nelle prossime ore verificheremo le procedure per addivenire alle sostituzioni che retteremo più opportune in base alle situazioni delle varie società, quindi incontreremo anche i vari amministratori delegati e presidenti e a quel punto procedere con le nuove nomine, se dobbiamo procedere a nuove nomine. Rimaniamo proprio nel tema dell'ultima domanda posta da Laura Ivani al nostro sindaco Peracchini. Il nuovo sindaco ci convocchi subito per discutere di Maris e delle società partecipate. Così Matteo Bellegoni, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che continua, il contesto politico è cambiato e vogliamo conoscere da Peracchini che scelte intende fare su Maris e le altre partecipate del Comune della Spezia. È avvenuta una rottura sentimentale che ha portato una vasta area politica a non sentirsi più rappresentata. È il commento dell'ex sindaco della Spezia, Giorgio Pagano, alla debacle delle sinistre alle elezioni amministrative spezzine. La disfatta ha ragioni anche locali. Una classe dirigente zangue, povera, idealmente se ragliata in un cerchio ristretto, autocelebrativa ma in realtà incapace di delineare una visione condivisa del futuro della città litigiosa e arrogante. Il 55% ha scelto l'astensione, un dato drammatico, delegittimante per tutti. Peracchini, volto per bene di una maggioranza spesso estremista, ha il compito di governare sapendo che gode del consenso solo di un quarto degli elettori. Partecipazione deve essere quindi la sua parola chiave. Nell'altro campo ci sono macerie, non si tratta di unire la vecchia sinistra ma di far rinascere una sinistra che non c'è più. Si può tentare di farlo solo dando vita ad un nuovo progetto civico che stia dalla parte dei più deboli e proponga nuove idee e strumenti di governo. Partecipato, conclude l'ex primo cittadino della Spezia. Sabato mattina alle 10 l'amministrazione comunale di Amelia ha convocato un consiglio comunale straordinario d'urgenza per la discussione di un ordine del giorno di protesta sulla gestione dell'emergenza migranti. La politica migratoria che il governo ha messo in campo è scelerata, lontana da tutte le logiche di buonsenso, dice il sindaco Andrea De Ranieri. È inaccettabile che il governo scarichi un problema grave come questo sui piccoli comuni come il nostro. La prefettura mi ha informato dell'arrivo di sei migranti poche ore prima senza che avessi modo di parlare con la gente. Con questo documento la mia maggioranza esprimerà formalmente la propria assoluta contrarietà ad un piano imposto dalle prefetture e dal governo italiano, conclude De Ranieri. Le regioni Liguria e Lombardia in Commissione Sanità hanno sollevato insieme ad altre regioni critiche tecniche al degredo vaccini riassunte in un documento approvato ad amplissima maggioranza e che oggi è stato condiviso in conferenza unificata. È quanto spiegano in una nota gli assessori della sanità delle regioni Liguria e Lombardia Sonia Viale e Giulio Gallera. Regione Lombardia e regione Liguria spiegano sono sempre state favorevoli ai vaccini ma contrarie al decreto così come impostato. Nel tempo abbiamo messo in campo iniziative per informare i cittadini e radicare la consapevolezza che vaccinare sia l'unica scelta giusta per la salute. Lavori abusivi in un'area di 10.000 metri quadrati in zona parco con materiali di riporto riconducibili ad aggregati e riciclati di rifiuti speciali. Li hanno scoperti ai mulini di sotto a follo i carabinieri forestali che hanno denunciato il titolare 61enne di una ditta per i reati relativi alla gestione di rifiuti, occupazione di terreno demaniale e realizzazione di opere su beni paesaggistici vincolati all'interno del parco di Monte Marcello, Magra Vara e in zona SIC, sito di interesse comunitario. L'area di cantiere è stata sequestrata a fini preventivi e probatori così come i mezzi meccanici utilizzati per spianare i rifiuti. Il distretto Ligure delle Tecnologie Marine prosegue nella sua attività di sostegno alla ricerca e alla formazione di alto livello europeo e internazionale. Vediamo il servizio. DLTM grazie all'acquisto di un'innovativa infrastruttura di calcolo attualmente può mettere a disposizione per tutte le aziende in particolar modo per le PMI che hanno maggior necessità di accedere a risorse complesse e altamente performanti tutto un insieme di suite e di software per tutta la parte di simulazioni fedonamiche, idronamiche e strutturali questo all'interno di un laboratorio che noi chiamiamo Laboratorio Nave che dà supporto a chi ha necessità di fare progettazioni avanzate e poi infrastrutture e sistemi cloud, quindi virtualizzazioni, sistemi che permettono di venire in conto a qualsiasi esigenza che le piccole aziende vogliono avere per l'analisi dei dati, la gestione dei propri dati, gestione dei propri applicativi, tutto attraverso un'infrastruttura dedicata e altamente affidabile, performante che segue ovviamente tutte le regole della privacy e della sicurezza che al giorno d'oggi sono fondamentali. Il DLTM anche nell'area formazione promuove la sinergia tra i propri soci e i testimoni eccellenti per la condivisione delle conoscenze e delle competenze per creazione di percorsi formativi sempre in linea con quelle che sono le esigenze del mercato. Attualmente stiamo anche rivolgendosi all'internazionale e attraverso la creazione di un progetto molto ambizioso che è il progetto della Scuola Internazionale di Tecnologie Marine che conta attualmente 26 partner provenienti da tutta Europa. È un ambito di condivisione delle competenze e delle conoscenze per progettare, per internazionalizzare i percorsi di alta formazione, per permettere ai giovani di poter accedere ad una formazione internazionale potendo acquisire competenze spendibili anche a livello europeo e internazionale. Il distretto conta tantissimo sull'aspetto legato alla progettualità europea e alla internazionizzazione che si traduce in due aspetti. La partecipazione da una parte diretta del distretto a progetti europei per poter creare delle opportunità di finanziamento anche per le piccole e medie imprese e delle opportunità anche di ricerca e sviluppo e una progettualità mirata proprio alla partecipazione diretta dei suoi soci e delle piccole e medie imprese all'interno di contesti di più ampio respiro, oltre a quello regionale. È quindi in questo contesto che si inserisce anche la partecipazione al progetto Clipper, un progetto del quale il DLTM è partner, che è proprio mirato ad aumentare e a migliorare gli strumenti regionali, le policy regionali per aumentare la competitività delle piccole e medie imprese. Il Centro di Ossigenoterapia Iperbarica del Comando Subacqueo ed Incursori, COM-SUBIN, della Marina Militare, è stato attivato nei giorni scorsi dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per trattare in emergenza con l'ossigenoterapia iperbarica un giovane operatore tecnico subacqueo civile affetto da patologia da decompressione. Un trattamento che è risultato indispensabile per salvare la vita all'interessato. La camera di decompressione del Com-SUBIN è disponibile dal 20 settembre 2016 per i pazienti civili della provincia spezzina, grazie alla convenzione tra la Marina Militare e l'Azienda Sanitaria Locale numero 5. Un altro passo avanti per il Comune di Levanto nel riconoscimento dell'efficacia del sistema di gestione ambientale. L'ente Riviera Asco, già certificato ISO 14001 dal 2010, ha conquistato la registrazione EMAS. Il provvedimento è stato rilasciato nei giorni scorsi dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Un ulteriore tassello verso l'ulteriore sviluppo di un'economia blu e verde che, mettendo in sinergia mare e colline, rappresenta un valore aggiunto, ha commentato il sindaco Ilario Agata. Sabato sarà stipulato l'accordo di collaborazione per i prossimi tre anni tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il CAI. Lo scopo della convenzione è quello di riconoscere al CAI un ruolo di protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio, mantenere un continuo aggiornamento sulle problematiche derivanti dall'alta frequentazione ed effettuare il monitoraggio dello stato dei ricoveri esistenti nel territorio. Un weekend ricco di iniziative nel comune di Leerici. Domani la notturna di Sant'Erasmo e sabato la Tana dei Turchi a Sant'Erenzo. Necessarie alcune modifiche alla viabilità. Vediamo il servizio di Selena e Ricco. Le immagini sono di Davide Morino. Sarà un weekend particolarmente animato, quello che riguarderà Sant'Erenzo, Leerici, la notturna di Sant'Erasmo e la Tana dei Turchi? Assolutamente sì. Questo venerdì 7 avremo la notturna di Sant'Erasmo che è giunta alla sua terza edizione, una gara polistica competitiva che fa parte del circuito Corri L'Unigiana che toccherà il lungomare di Leerici e Sant'Erenzo per poi snodarsi nelle nostre colline con un percorso di circa 10 km. È una manifestazione che assume sempre più importanza. L'anno scorso abbiamo superato i 300 iscritti e quest'anno speriamo di superare i 400. Invece sabato avremo la famosa rievocazione storica della Tana dei Turchi arrivata alla sua tredicesima edizione, molto bella, verrà chiuso tutto il centro storico, verrà totalmente pedonalizzato, si chiuderà il traffico veicolare dalle 19 alle 24 e si attende questo sbarco dei turchi via mare e questa famosa battaglia è la difesa dei santerenzini per il loro territorio. Si concluderà tutto a fine serata con uno spettacolo pirotecnico al castello di Sant'Erenzo. Un evento, quello della Tana dei Turchi, giunto alla tredicesima edizione dietro un'importante organizzazione per realizzarlo. Io colgo l'occasione, se posso, ringraziare l'organizzatore della Tana dei Turchi che è arrivata alla tredicesima edizione ed è una manifestazione che impegna molto a livello organizzativo in termini di risorse e in termini di tempo e è organizzata in toto dalla Proloco di Sant'Erenzo. Continuiamo a parlare di cultura, spettacoli e appuntamenti. Dall'8 luglio all'8 ottobre si terrà la torre del castello dei Vescovi di Luni di Castelnuovo Magra la mostra Bruce Chatwin, il viaggio continua organizzato dal comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con l'associazione Chatwin. L'esposizione vuole celebrare lo scrittore, viaggiatore inglese, autore dei libri di culto che 40 anni fa aveva stupito il mondo letterario con il suo primo libro, In Patagonia. La mostra, che si articola sui sette livelli della torre, ospita anche immagini in bianco e nero messe a disposizione da Elisabeth Chatwin dal cospicuo archivio conservato presso la University of Oxford. Panariello che verrà è lo spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Civico il 28 ottobre alle 21 ma le cui prevendite partiranno già da mercoledì 12 luglio alle ore 11. Il comico tornerà sul palco scenico con la sua verve per coinvolgere gli spettatori in un nuovo ed imperdibile spettacolo. Giovanni Allevi impegnato in questi giorni in tournée in Giappone è stato operato d'urgenza per un distacco di retina. In riabilitazione per alcuni giorni il compositore sarà costretto a posticipare i suoi prossimi impegni professionali. La data del 24 luglio di piazza San Giorgio Aleri ci è stata posticipata al giorno 4 settembre alle ore 21.30. I biglietti acquistati restano validi, fanno sapere gli organizzatori e qualora se ne volesse richiedere il rimborso ci si potrà rivolgere al rivenditore o circuito utilizzato per l'acquisto. E torna a San Terenzo la Marguttiana di Amerigo dal 28 al 30 luglio. Le fotografie e i quadri scelti saranno esposti in via Trogu. Al concorso in palio ci sono 1000 euro, ci si può ancora iscrivere. Il termine è sabato 8 luglio. Vediamo il servizio di Serena Enrico con le immagini di Davide Morini. La Marguttiana è una storica mostra fotografica ripresa da due anni ma che ha origini davvero antiche iniziata nel 76 proprio grazie a un'idea di Amerigo Lupi. La Marguttiana è nata nel 1976 nella splendida cornice del centro storico del paese. Amerigo Lupi è stato tra i principali promotori delle iniziative essendo presidente del movimento cristiano lavoratori, un movimento molto presente nel territorio. e la particolarità della Marguttiana era di dare un'opportunità agli artisti locali di farsi conoscere, animare il centro storico e era anche un punto di incontro tra la comunità locale e gli artisti emergenti. Ogni anno la Marguttiana non si è sempre ripetuta in modo uguale dato che ha anche ospitato una mostra di modelli navali con la collaborazione della società Mutuo Soccorso di Lerici e anche spettacoli musicali della zona. Da due anni a questa parte abbiamo deciso di rilanciare un po' la manifestazione anche arricchendola con un concorso fotografico a premi in cui il primo premio sarà di ben mille euro e anche incontri d'autore a Parco Scelli nelle ore serali. Ancora due giorni fino a sabato 8 luglio per iscriversi alla Marguttiana la mostra fotografica, un concorso fotografico e di quadri che si svolgerà in Via Trogu a partire dal 28 luglio. Sì, molto importante. Io mi rivolgo a tutti i fotografi che vogliono partecipare. Sono gli ultimi due o tre giorni per inviare le immagini. Quelle che stanno arrivando sono di una qualità molto alta quindi faremo una mostra bellissima sia nel centro storico che a Parco Scelli qua a San Terenzo e cosa importantissima per chi vuole partecipare vedrà giudicare le proprie foto da tre giurati di primissimo livello. Il presidente della giuria Francesco Cito che è il numero uno del fotogiornalismo italiano quindi potete trovarlo da tutte le parti Stefano Lanzardo, artista e fotografo e Walter Viaggi, artista e fotografo. Volevo solo dire che sono gli ultimi giorni cercate di inviare le vostre foto potete trovare tutte le informazioni sulla pagina Facebook alla Marguttiana di Amerigo o se no all'indirizzo email toni-antonialberti.it Un concorso al quale seguirà anche un importante premio ma soprattutto non abbiamo ricordato il tema che c'è proprio per presentare queste fotografie. Il tema del concorso fotografico della Marguttiana sarà quest'anno il vento ed il premio sarà un premio importante perché il vincitore si aggiudicherà 1000 euro. Nel centenario della prima guerra mondiale il comune di Vezzano, Ligure e il gruppo Folca alla Vesaa organizzano sabato 8 luglio alle 21.30 in piazza del popolo a Vezzano Inferiore la manifestazione Canti dalla Trincea rievocazione storica della grande guerra. L'iniziativa nata da un'idea del noto fotografo vezzanese Mauro Fioravanti vuole ricordare i soldati vezzanesi che combatterono fra il 1915 e il 1918 nelle diverse trincee. Domani alla fabbrica, al centro commerciale di Santo Stefano Magra torna il baratto del libro per bambini, ragazzi e adulti dalle 15 alle 20. L'iniziativa è promossa dall'Istituto Comprensivo di Santo Stefano Magra con il patrocinio del comune in collaborazione con il centro. Dalle 16.30 la merenda di una volta a cura della Proloquo Arcolana e a seguire le letture tratte dai racconti per bambini di Oscar Wilde a cura del circolo lettori ad alta voce della Spezia. Sabato 8 luglio dalle 8 alle 13 al Parco del Cavaliere degli Orti di San Giorgio alla Spezia come ogni secondo e quarto sabato del mese avrà luogo il mercato contadino biologico degli Orti di San Giorgio. L'associazione Orti di San Giorgio intende valorizzare il ruolo dell'Orto nella diffusione di una cultura dell'alimentazione sana e di qualità. Saranno presenti i produttori in possesso di certificazione biologica dei territori della Lodigiana storica. Ed è tornato in via Palmari all'oratorio del Canaletto lo scivolo acquatico che l'estate scorsa ha riscosso un notevole successo e diverse centinaia di presenze. Oggi e domani i grandi e piccini potranno divertirsi con i due scivoli allestiti all'interno dell'oratorio. Vediamo il servizio di Selene Rico con le immagini di Davide Morino. La Spezia, ma in particolar modo il quartiere del Canaletto con il suo oratorio dei Salesiani in via Palmari torna ad animarsi grazie all'atteso ritorno dello scivolo acquatico. Seconda edizione con una novità, lo potete vedere alle mie spalle lo scivolo non è uno ma sono due. Uno per i più grandi e uno invece per i più piccini. Uno scivolo che farà diverse tappe in giro per l'Italia impegnato tra oggi e domani proprio alla Spezia. Oggi fino alle 21 sarà possibile usufruire di questo bellissimo divertimento domani fino alle 20 ma fino alle 16 l'attività è dedicata rivolta ai bambini dell'oratorio dalle 16 in poi rivolta a tutti. Quest'anno due scivoli, uno più grande che è lo stesso che abbiamo avuto l'anno scorso e uno un po' più piccolino perché l'altezza di quello grande per i più piccolini forse era troppo e allora uno un po' più basso anche per loro. Oggi e domani Spezia, ma in particolar modo il Canaletto in questo caso l'oratorio sarà un po' il palcoscenico di questo evento. Fino alle 4 aperto proprio per i bambini dell'oratorio poi aperto a tutti è presto per dirlo ma insomma c'è stato già un importante riscontro. Sì, beh diciamo che quando qualcosa funziona bene è facile avere dei riscontri. I nostri bimbi del campus sono contentissimi di avere la possibilità di divertirsi tranquilli qua dentro l'oratorio e poi le persone esterne che comunque verranno dopo animeranno un po' la parrocchia che ogni tanto è bello vedere che sia il centro e il fulcro un po' della città. Ogni tanto un po' di ringraziamento anche al posto è consono farlo. Questa è una delle iniziative inserite proprio all'interno delle attività organizzate dal campus estivo ovviamente non è l'unica, non è la sola cosa fate per appunto intrattenere i bambini in questo periodo? Diciamo che nell'arco dei 5 giorni da lunedì al venerdì abbiamo questi 350 ragazzi abbiamo inserito quest'anno due novità uno che è l'atletica al campo montagna e un mini corso di rugby insieme ad attività tradizionali come la danza, come il ballo e un giorno a settimana abbiamo l'uscita giornaliera i due scivoli si inseriscono all'interno vanno a essere l'alternativa alla gita giornaliera Con una tesi dal titolo reciprocità dialettica dell'amore cristiano relatore e professor Antonio Postorino il nostro collaboratore Diego Bruzzone ha conseguito la sua seconda laurea dopo ingegneria è la volta della laurea di primo livello in scienze religiose presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Spezia con il voto di 106 su 110 Siamo ora allo sport Giovanni Soldini e il suo equipaggio di velisti italo-spagnoli a bordo di Maserati Multi 70 primo trimarano oceanico volante del mondo di base alla Spezia sono pronti per partecipare ad una grande classica della vela d'altura oceanica la Trans-Pacific Yacht Race in partenza oggi da Los Angeles in California con arrivo a Onolulu nelle Hawaii 2.225 miglia che vedono al via alle 13.30 locali di oggi le 22.30 italiane accanto al trimarano italiano altri 4 multiscafi presentata oggi la nuova campagna abbonamenti dello Spezia Calcio prezzi invariati per i tifosi più fedeli perché Spezia è questa il claim prescelto e la fase di prelazione prenderà il via lunedì 10 luglio ce ne parla Selene Enrico siamo qui per presentare la campagna abbonamenti 17-18 al via la nuova campagna abbonamenti dello Spezia la società premia i tifosi più fedeli mantenendo invariate le tariffe per i vecchi abbonati 110 euro per la curva ferrovia 260 per i distinti e 430 per la tribuna a loro, a chi c'è sempre stato è dedicata la prima parte della campagna di tesseramento la fase di prelazione inizierà infatti lunedì 10 luglio per finire sabato 22 la fase di vendita libera si svolgerà invece dal 25 luglio al 25 agosto prezzi competitivi tra i più bassi delle varie società di serie B anche in questo caso l'abbonamento in curva ferrovia costerà 120 euro i distinti 280 e la tribuna 450 confermate anche diverse promozioni per gli under 14 l'abbonamento costerà 20 euro in qualsiasi settore per le donne per i giovani tra i 15 e i 18 anni e per gli over 65 il prezzo è invece dimezzato rispetto a quello indicato per la vendita libera quindi 60, 140 e 225 euro a seconda del settore gli iscritti a un CRAL risparmiano invece il 10% torna anche il cosiddetto abbonamento solidale la curva costa 60 euro per chi è iscritto alle liste di disoccupazione e per avvicinare ancora di più i giovani allo Spezia ogni bambino che avrà partecipato al campus estivo riceverà in omaggio l'abbonamento cancellata invece la promozione porta un amico tra le novità l'estrazione giornaliera per una maglia in omaggio ogni giorno tra coloro che sottoscriveranno l'abbonamento ci sarà infatti un fortunato che si aggiudicherà la maglia ufficiale dello Spezia questo per tutti i giorni della campagna circa 60 a livello comunicativo la campagna di quest'anno si abbinerà ai luoghi della città grazie agli scatti del fotografo Alberto Andreani una cartolina che recita perché questa è Spezia dove oltre ad un paesaggio caratteristico della Spezia e prossimamente saranno coinvolti anche i quartieri ci sarà un giocatore di spalle con indosso la maglia ufficiale del centenario con il numero 12 a indicare il 12esimo uomo in campo siamo ora in chiusura con le previsioni del tempo per la giornata di domani il cielo sarà soleggiato con temporanei innocui passaggi nuvolosi sulla costa velature umidità su valori medi venti al mattino deboli meridionali a regime di brezza sulle coste deboli meridionali al pomeriggio mare poco mosso localmente calmo temperature comprese tra valori minimi di 20 gradi e massimi di 28 con il metto è tutto grazie per averci seguito anche questa sera vi auguriamo una felice serata arrivederci